A Ceresole Reale, a Ceresole Reale per riscoprire un'arte, anche se poi Marco dice, io sono uno scultore del legno, non un artista, un artigiano, ma in realtà questa è davvero un'arte. Intanto cominciamo a dire come nasce la passione e soprattutto come nasce l'idea di far diventare questa passione il proprio lavoro, se possiamo dire. La passione è una cosa che già da bambino, è un po' retorico dire questa frase, però nel mio caso è vero. Già da bambino avevo questa voglia di giocare con dei legnetti, con dei bastoni, cercare di trasformarli, di fare delle cose che assomigliassero un po' alla natura. Intagliavo delle piccole mucche sulle bifurcazioni dei rami e poi dopo andando avanti ho scoperto veramente questa passione frequentando alcune fiere di settore, vedendo dei artigiani e degli artisti veramente in gamba e ho avuto la fortuna di frequentare la bottega a scuola di Giuseppe Binel, che è un artista famoso valdostano, che è stato poi quello che mi ha spinto, dopo cinque anni di bottega a scuola frequentata presso di lui, che mi ha spinto di farlo come lavoro ed è diventato la mia occupazione principale. Come nasce una, diciamo pure un'opera d'arte, tu dici una scultura, ma diciamo pure un'opera, come nasce? Nasce perché uno intravede in quel pezzo qualcosa, c'è già dentro oppure uno prende il pezzo e poi piano piano fa nascere la sua opera? Qui bisogna un po' sfatare un mito, nel senso che si lavora sia su ordinazione, perciò si eseguono dei lavori su commissione copiando oppure andando ad interpretare delle idee che il committente ha, sfruttando dei disegni, delle fotografie, qualcosa che esiste già. In realtà poi la parte un po' più artistica è quella proprio di trasformare qualcosa, non so se uno prende una radice che ti dà un'emozione, magari seguire l'emozione che il legno ti trasmette in quel momento per creare qualcosa di unico, di veramente, quella è veramente magari vedere qualcosa dentro nel pezzo di legno. Però si lavora sia da una parte che dall'altra, nei due modi. E questa è la doppia figura dell'artigiano, che comunque fa opere sempre uniche perché non sono ripetibili, ed è l'artista che invece vuole un po' più alto. Certo, sì sì. Che cosa induce un artista, perché qua parliamo di arte, a vedere qualcosa nel pezzo di legno? Qual è l'occhio che colpisce, che dicevi prima, la radice? Come si fa? Noi abbiamo l'idea che quando guardiamo le nuvole, a volte nelle nuvole vediamo delle salve, e so, succede lo stesso per il legno? Sì, è una cosa molto simile. Diciamo che è una cosa che mi capita e che mi affascina molto, è che quando io ripongo dei legni a stagionare in legnaia, mi piace pensare che loro sanno già quello che diventeranno. Tu magari li lasci lì 3, 4, 5 anni, poi quando li prendi li trasformi in quelli che loro sono già portati per essere trasformati e scolpiti. Quando tu inizi una scultura e il pezzo di legno ti dà delle sensazioni, andando avanti, io dico sempre la mente è un po' fredda, andando avanti cominci a vedere delle cose che ti portano poi a elaborare un soggetto più che un altro. È un po' così che nasce l'opera. Tu hai detto che questa è diventata la tua occupazione, il tuo lavoro, tu hai imparato, arrivi da una grande scuola, e adesso però sei tu a trasferire nei giovani, speriamo, questa tua esperienza, perché da Bosco Nero parte il tuo corso di intaglio del legno. Sì, diciamo che negli anni sempre più gente mi chiedeva la possibilità di provare a fare qualcosa, e questa passione, era bello vedere appunto che c'è parecchia gente che si avvicina a questa forma di arte creativa. E allora ho iniziato a fare dei corsi, di tenere dei corsi o degli stasi di intaglio, e Bosco Nero con quest'anno è il sesto corso che proponiamo, perché sono già anni che andiamo lì a proporlo, loro sono molto attenti a promuoverlo anche nell'ambito dell'arroafiera, dell'artigianato che fanno a maggio. Perciò a ottobre partiamo con il sesto corso di intaglio base, per chi vuole proprio avvicinarsi e imparare i rudimenti, per poi dopo sfociare nel mondo dell'intaglio del legno, che è una cosa che veramente lascia delle porte aperte a creare delle cose bellissime. C'è spazio economico, c'è spazio per lavorare, tutti cercano lavoro, tutti vogliono il solito posto fisso, e nessuno pensa magari a fare l'agricoltore come si fa oggi, a fare l'intagliatore, ad esempio c'è spazio economico per fare questa attività? Allora, sicuramente quando passa da hobby ad attività lavorativa, ci sono tutte le problematiche legate al fatto che devi comunque stare in una tempistica, e devi, sì comunque lavorando sulla qualità e non sulla quantità, la possibilità di lavorare c'è, non è una cosa immediata, perché uno deve acquisire la manualità giusta e perseverando sicuramente si può. Pare che gente che si avvicina ai corsi, poi dopo partecipa a queste fiere di settore, anche come hobbysta, perciò lo spazio per monetizzare un po' c'è, anche più che altro per avere motivazione a continuare per migliorare. Chi vuole partecipare a questo corso, che cosa deve avere? Deve già avere esperienza, deve avere, quali caratteristiche deve avere? Deve avere un po' di spirito artistico, un po' di manualità? Ma assolutamente no, il bello dei corsi basi di intaglio è proprio che si avvicina a gente che ha una grossa volontà di scoprire, però magari non conosce il legno assolutamente, perciò nei corsi abbiamo ragazzi giovani che vogliono provare qualcosa di nuovo, gente che conosce bene il legno, perché partecipano anche a dei falegnami che magari non sanno intagliare, ma conoscono benissimo il legno, casalinghe, pensionati, niente, praticamente lì si impara proprio il rudimento, perciò non c'è bisogno di avere nessuna nozione già prima, partiamo da zero, basta avere un po' di umiltà e un po' di voglia di provare a fare qualcosa di buono e qualcosa nasce. Qual è il legno che preferisci lavorare? Che cosa sono le cose che preferisci creare? Ecco, nei corsi questa è una delle materie che spieghiamo meglio, perché non tutti i legni sono adatti all'intaglio, una classificazione un po' diciamo così molto grossolana, legni duri e legni morbidi, si possono intagliare tutte e due, la tecnica è uguale, cambia un po' la filatura dell'utensile, diciamo che io tendo ad utilizzare essenze nostrane, senza andare a prendere dei legni che non abbiamo qua, perciò tiglio, pino, cembro per i legni morbidi, noce, acero, ciliegio per quelli più duri, sono tutti legni molto facilmente riperibili in luogo. E la difficoltà di lavorarli ovviamente sta nella durezza. Diciamo che nel legno morbido è più facile asportare materiale, ma la pulizia finale è un pochettino più lunga, invece al contrario nel legno c'è un po' più duro, la pulizia è molto più netta, però oggi una mente c'è un po' più di durezza nel portarvi a materiale. Di tutto quello che hai fatto, cos'è quello che ti è piaciuto di più fare? Devo ancora farlo, è una cosa che si dice un po' che si cerca sempre di migliorare, perciò di andare verso un qualcosa di più difficile. L'asticella della difficoltà si alza sempre, ci sono parecchi lavori a cui sono affezionato, nella scultura diciamo che non si finisce mai di imparare, penso. L'opera più bella sarà l'ultima che farai fra tantissimi anni? Spero proprio di sì, sì, sì. Da Ceresole a Bosconero, artista di Ceresole che inizia il corso Bosconero, voi a Bosconero però avete questa mostra che è una mostra nella quale si lavora, nella quale gli artigiani dimostrano non solo quello che hanno fatto, ma quello che sanno fare. Questo legame è sempre più un saldo. Sì, noi sicuramente a Bosconero con la nostra mostra dell'artigianato che si svolge tutti gli anni a maggio, abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre investito nella manualità. Siamo convinti che il futuro sia nella manualità. Siamo ben contenti che Marco Rolando, un artista straordinario di queste vallate, di queste vallate di Ceresole, abbia deciso di portare questo corso ormai alla sua sesta edizione, facendo conoscere alla pianura quella che è la manualità, quelle che sono le tradizioni di queste vallate. Tradizioni legate al legno, tradizioni legate alla precisione, perché ricordo che un corso di intaglio significa precisione, significa entrare, entrare nell'anima del legno, significa avere passione, che è la stessa passione che probabilmente ci porta spesso e volentieri a visitare queste vallate, dove si possono visitare con molta attenzione, quindi la stessa attenzione che va ricercata in un corso di intaglio. Artigiani e artisti, voi a Bosco Nero li promuovete, questo territorio è un territorio ricco di artigiani, artisti, abbiamo visto del legno, forse è una delle risorse che dobbiamo riscoprire? Sicuramente è una delle risorse che dobbiamo riscoprire, farla riscoprire soprattutto ai giovani, alle scuole, far sporcare le mani, come ho già detto in altra occasione, ai ragazzi, perché proprio sporcandosi le mani che spesso si realizzano i propri sogni. Da Ceresole a Bosco Nero, da Bosco Nero a Ceresole, quanto è importante questa sinergia nel territorio che così riesce forse a fare massa critica? Sicuramente tutte le collaborazioni e le sinergie sono importantissime, soprattutto per noi piccoli comuni in aree montane soggette anche a delle criticità, che possono essere i periodi invernali, possono essere un po' la congestione estiva, quindi davvero per noi avere la possibilità di interfacciarsi con la pianura è molto importante, è molto importante per i nostri giovani, perché comunque noi sempre di più dobbiamo pensare a riscoprire cos'erano i vecchi mestieri, l'artigianato in primis, la cultura delle zone montane che hanno avuto un periodo di recesso e di abbandono, diciamo dal periodo dell'industria, quando si scendeva dalle valli e si andava a cercare lavoro nella pianura, a Rivarolo, Feletto, a Bosco Nero, molti hanno fatto questo periodo di immigrazione. Sappiamo com'è adesso il momento economico in pianura, sappiamo com'è il momento economico nazionale, noi abbiamo ancora delle risorse e delle possibilità di fare gruppo e di lavorare insieme, sicuramente l'agricoltura montana sarà fulcro dei prossimi anni, perché veramente siamo ad un bivio, perché fare turismo e fare agriturismo è quello che l'Europa chiede, ci sono dei fondi, ci sono dei finanziamenti in quella direzione, dobbiamo fortemente volerlo. Si parla molto di questa Blue Economy, noi è un altro punto fermo che con alcuni già comuni di pianura stiamo cercando di condividere e sempre di più dovremmo pensare di poter vendere, ahimè, le ciliegie di Pecetto e a Pecetto la Toma di Ceresole. Quindi questo davvero per noi è un momento importante, un grazie particolare sicuramente all'amministrazione di Bosco Nero che crede nella nostra valle, crede in Ceresole e sempre di più e ogni anno ha delle iniziative che ci tornano, quindi per noi davvero una grossa occasione, una grossa chance di scambio e di lavorare insieme. Quando si pensa a Ceresole si pensava fino a qualche tempo fa allo sci d'inverno, sci di fondo soprattutto, ma anche a qualcosa sci di discesa, si pensava al parco, alle bellezze delle camminate d'estate, finiva lì. Invece dicevi agricoltura, dicevamo artigianato, artistico, blu economy, si sta ampliando il panorama economico e anche turistico, perché poi l'offerta turistica è anche questo, non è solo sci o passeggiate o enogastronomie, è molto di più. Ma sicuramente le nostre valli hanno praticamente una monodirezione, perché la direzione è quella. Io arrivo da esperienze precedenti, conosco abbastanza le Alpi e sempre di più andando in località affollate delle Alpi riscontro la necessità da parte del fruitore di quel tipo di prodotto ad abbandonare il caos delle grandi stazioni, delle grandi valli. Noi abbiamo gli ingredienti, abbiamo il territorio, dobbiamo fortemente volerlo, noi come amministratori, e noi come operatori locali. Sicuramente l'artigianato, sicuramente la presenza del parco in cui noi viviamo e teniamo presente che noi non viviamo solo in un parco nazionale, ma viviamo in un super parco, perché il Parco Nazionale del Gran Paradiso fa parte di una green list, ci sono 27 parchi che sono all'interno di questa green list e sono stati selezionati su oltre 240 parchi internazionali. Quindi davvero il nostro è un super parco, dobbiamo sfruttarlo e dobbiamo credere in quello che ci offre, ci offre tutto, dobbiamo prenderlo ed utilizzarlo nel modo corretto e sostenendo anche un po' questa mobilità dolce che è un po' diciamo un anello di giunzione con l'Associazione per le Alpine. Mi aggancio un po' a tutto cos'è il discorso invernale, noi abbiamo delle gite di sci alpinismo che ci invidiano in tutta Europa, abbiamo una parte in cui si può arrampicare simil Monte Bianco, perché abbiamo una roccia con delle fessure dove il migliore arrampicatore nei periodi di non utilizzo del Monte Bianco, perché magari ad aprile e maggio sul Monte Bianco non ci vado, ma ci vado in estate, posso venire qua a praticare quell'attività che è un gesto molto simile come tecnica, che poi mi ritrovo sulle grandi pareti del Monte Bianco. Quindi davvero crediamoci che gli operatori ci credano e il successo non può essere che certo. Sinergia fra comuni, comuni della pianura, comuni della montagna, non solo la mostra dell'artigianato, non solo gli artisti, perché non c'è solo l'estate, c'è anche l'inverno, insomma si sta creando qualcosa fra Mosconero e Ceresone. Sì, noi come amministrazione crediamo molto sulle sinergie del territorio, crediamo che mai, come in questi tempi in cui le risorse sono poche, si debbano ottimizzare quelle che ci sono e quindi gli scambi culturali, gli scambi di esperienze sono sicuramente delle azioni fondamentali per promuovere il territorio e le sue attività. Con Ceresone è già da alcuni anni che, grazie appunto alla presenza di Marco Rolando, la nostra mostra dell'artigianato, ci sono delle collaborazioni e delle sinergie. L'idea per quest'anno è quella di fare uno scambio anche per le attività invernali, quindi stiamo programmando delle serate e delle giornate di promozione con le scuole in modo da far conoscere anche alle giovani generazioni le ricchezze di questa montagna, che è a due passi, quindi permette comunque la fruizione di sport invernali a chilometro zero e con una facilità di movimento anche appunto per i più giovani che possono venire qui in montagna a due passi da casa a fare le attività sportive invernali che offre questa zona. Quindi stiamo facendo un programma di presentazione e speriamo che appunto questo gemellaggio culturale possa servire a promuovere i nostri territori, quindi la montagna e la pianura che insieme cercano di fare sinergia per il territorio canavesano.